Ah, mi fai! La grande spinge... non è poi tanto grande. Un ingresso segreto. Non se n'è mai accorto nessuno. Oh, strada chiusa. Ma non è possibile. Ci deve pure essere un passaggio. Non è possibile. Peramon, cos'è questo? Peramon, cos'è questo? Ma non è egiziano. Peramon, cos'è questo? Peramon, cos'è questo? Nuova trasmissione. Non da un sonno senza sogno, dall'assenza di luce, ma da una realtà che presto scomparirà. Sveglia. Il prossimo passo è già deciso. Nuova trasmissione. Sveglia. Peramon, cos'è questo? Peramon, cos'è questo? Sveglia. 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 Sveglia.